strade con i rattoppi strade dissestate strade impraticabili a torre del greco tra le buche e tutti i lavori che hanno interessato le altre cittadine negli ultimi mesi le condizioni delle strade lasciano molto a desiderare una situazione attenzionata e denunciata a più riprese dai cittadini anche ai microfoni di tv city disagi per chi percorre viale ungheria viale aldomoro e via cimaglia per i mezzi a due ruote e anche per le auto ma anche in altre zone dal centro alla periferia non mancano i disagi se a questo si aggiunge il traffico e problemi legati alla viabilità si comprende bene l'esasperazione dei cittadini e i tempi lunghi di percorrenza anche per distanze minime senza contare le auto parcheggiate sui marciapiedi e la poca presenza degli agenti di polizia municipale sul territorio una situazione destinata solo a peggiorare in vista del maggior flusso veicolare previsto in occasione delle festività natalizie